Ciao, eccoci al ventinovesimo e penultimo esercizio di questo percorso di meditazioni guidate per affinare la consapevolezza. Durante questo percorso ho detto tante volte lasciar andare e chissà se ti sarà capitato qualche volta di sperimentare questo lasciar andare, questo spazio enorme dentro, questa presenza mentale, questo essere svegli presenti ma non aggrappati a nulla. Ti sarà capitato di renderti conto che ogni volta che rimaniamo attaccati a qualcosa invece che lasciare andare soffriamo. Magari siamo attaccati a qualcosa che ci piace o un'idea oppure lottiamo per mandare via qualcosa che non ci piace. In entrambi i casi non stiamo fluendo con la vita, rimaniamo bloccati. L'abilità di lasciare andare invece è l'abilità di sentire profondamente una gioia o un dolore ma senza desiderare che quella gioia rimanga o che quel dolore se ne vada. E se comprendo quindi che tutto è temporaneo e non duraturo, cioè lo vivo dentro di me, mi accorgo che tutto è temporaneo e non duraturo, allora posso gioire di una situazione piacevole o sentire la tristezza in una situazione spiacevole senza volerla afferrare. E quindi vivere pienamente in libertà, libera o libero da idee, da aspettative. E questo non significa che non possiamo avere intenzioni o motivazioni e che viviamo così passivamente senza muoverci. Anzi, la qualità delle nostre intenzioni e delle nostre motivazioni è cruciale. Possiamo dunque sviluppare intenzioni di bene e lasciare andare il risultato. Durante questa meditazione torniamo quindi proprio su questo punto che è molto importante, il lasciare andare. E nel prossimo ed ultimo video vedremo l'esperienza del dissolversi di ogni aspettativa, di ogni credenza, di ogni idea. Esperienza che accade quando semplicemente siamo presenti e lasciamo andare tutte le idee, le aspettative, i concetti. Iniziamo la meditazione guidata a cui, come sempre, seguono 30 minuti di silenzio per sperimentare da soli nel silenzio le cose di cui parliamo. Alla fine suonerò la campana e dunque se arriverai al suono della campana avrai fatto circa 45 minuti di meditazione. La campana anche, avrai notato, aiuta a rimanere qui perché se porti l'attenzione al suono la tua mente è completamente focalizzata e presente. Noi abbiamo utilizzato il respiro soprattutto come ancora per tenere la mente nel presente ma abbiamo compreso che anche altre sensazioni nel corpo e i suoni possono essere usati come ancora. Se sono presenti i suoni nell'ambiente in cui ti trovi puoi proprio usarli questi suoni e se sono presenti sensazioni forti nel tuo corpo in questo momento, invece di tenere l'attenzione al respiro puoi portare l'attenzione lì, alla sensazione che richiama la tua attenzione in questo momento. Altrimenti, come sempre, tieni l'attenzione al respiro. E mentre la mia mente è lì a seguire, a sentire il processo del respiro oppure a sentire le sensazioni o quello che accade provo a lasciare andare, lasciare andare qualsiasi idea di dover essere in un certo modo, di dover fare qualche cosa se mi accorgo che c'è una contrazione, se sto trattenendo qualche cosa oppure se mi aspetto che accada qualcosa provo a lasciare andare, lasciare andare le aspettative, le idee oppure a sentire le testo, le idee, la cosa che accadeva per essere in un certo modo, Nella vita quotidiana normalmente la nostra mente è molto impegnata a pianificare, controllare, analizzare, ricordare e quindi è normale che sia difficile invece lasciare andare tutto questo lavoro. In effetti ho iniziato a comprendere queste cose dopo lunghi ritiri di meditazione, dopo parecchie ore di meditazione, in giornate in cui non dovevo occuparmi di nulla, c'era qualcuno che preparava da mangiare, non dovevo fare nulla se non meditare ed è lì che ho iniziato a comprendere. Consiglio a chi vuole davvero approfondire la pratica ad un certo punto di fare qualche ritiro perché è lì che iniziamo davvero a comprendere la mente. Però anche la pratica quotidiana, dedicare un po' di minuti ogni giorno alla consapevolezza, sicuramente aiuta. Più di una volta mi è capitato che persone che hanno seguito i miei corsi dal vivo mi hanno detto di aver sperimentato questo lasciare andare come una benedizione che è arrivata a un certo punto praticando 20, 30 o 40 minuti al giorno, ognuno si regola in base alla propria vita. E quando accade questo lasciare andare ce ne accorgiamo. Qualcosa dentro è come se mollasse, mollasse la presa. Quindi con fiducia noi torniamo sempre a sentire il respiro. Grazie. 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 A sentire il corpo. Grazie. in modo da svilupparla questa mente non giudicante presente all'esperienza così com'è stiamo allenando questa capacità di stare con quello che c'è con l'esperienza del momento senza cercare di manipolare quello che c'è di cambiarlo di modificarlo stiamo semplicemente osservando guardiamo dentro di noi come se guardassimo un film fotogramma dopo fotogramma tutto passa un'emozione un pensiero una sensazione arriva la osservo la sento e poi se ne va grazie a tutti posso dunque continuare così a meditare se riesco per altri 30 minuti cercando di portare questa attenzione morbida al mio respiro lasciando andare usando magari proprio l'espirazione per lasciare andare qualsiasi idea e qualsiasi aspettativa imparando a stare qui in questo momento così presente vigile con gentilezza con delicatezza senza giudicare e lasciando andare qualsiasi idea abbiamo sulla meditazione sul respiro su noi stessi su chi parla facciamo un ulteriore passo nella saggezza della consapevolezza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.